Non è un caso organizzare a Montori Albomalo che è uno dei luoghi rappresentativi dei danni subiti dal terremoto un'assemblea regionale del Partito Democratico che parli di ricostruzione? Sì, noi faremo sempre i nostri incontri nei luoghi di frattura, di dolore, di difficoltà dell'Abruzzo al fianco proprio fisicamente degli ultimi, dei penultimi perché questo è il PD. Abbiamo iniziato con un'assemblea in una periferia di una città importante come Pescara e la seconda occasione qui a Montorio per dire che la ricostruzione proprio oggi cioè proprio nel giorno in cui registriamo la chiusura della nuova squadra di governo e il superamento definitivo della crisi che si è aperta ad agosto questo tema deve essere al cuore dell'agenda di governo. Ieri Conte ha parlato, ci ha messo la faccia, per noi va bene però a questo devono seguire degli fatti concreti oggi li abbiamo elencati, stamane a questo abbiamo aggiunto un'attenzione al tema dell'autonomia differenziata i due temi sono legati, cioè questo paese deve rimanere unito e la parte sud di cui l'Abruzzo è componente anche se naturalmente non con tutte le problematiche del mezzogiorno ma non deve essere abbandonata e soprattutto non deve essere isolata insomma questo vuole essere il PD alla fine oggi noi riorientiamo la nostra azione il governo deve avere al centro il tema delle zone marginali delle zone più in difficoltà e quindi in questo caso di un Abruzzo che ha tante problematiche a partire dalla ricostruzione Invece sulla questione Abruzzo che ha sollevato in relazione anche alle nomine dei sottosegretari c'è veramente una questione Abruzzo da dover sciogliere? Sì, appunto i temi che citavo la indicano ce ne sono anche altri, sono le tante potenzialità di questa regione la sua capacità nella manifattura, nell'industria la sua potenzialità nel lavoro però deve essere accompagnata da un'azione di governo che investa sul nostro territorio ad esempio sul tema delle infrastrutture non c'è un sottosegretario che venga da questa regione Qualcuno si aspettava da Alfonso? Ci sono stati diversi nomi, ci sono state diverse possibilità il punto è oggi fare subito quello che ho chiesto a Zingaretti il punto sul nostro territorio vogliamo capire se questo significherà disattenzione oppure se ci sarà un modo perché ci sia un protagonismo nel nostro territorio e comunque ci siano le nostre questioni nell'agenda delle cose da fare lo misureremo anche con la presenza dei ministri e dei sottosegretari nominati Lei l'ha sentito di Zingaretti? Sì, ci vedremo presto una presenza che già c'è stata per quanto ci riguarda ad esempio Antonio Misiani che è stato nominato adesso vice ministro del Ministero di Economia e Finanze proprio due giorni fa, tre giorni fa era in Abruzzo con noi quindi ci deve essere una presenza un'amicizia, una vicinanza, un'attenzione a prescindere dalla provenienza di questi sottosegretari altrimenti è chiaro che noi soffriremo e questo non ce lo possiamo consentire il PD si farà parte responsabile di questa necessità grazie a tutti